Buongiorno a tutti, siamo così giunti alla fine della campagna elettorale e ci presentiamo a voi per chiedervi il vostro sostegno per amministrare Capri nei prossimi 5 anni. Chiaramente le referenze, credo, almeno per quanto mi riguarda, siano ottime, in quanto i risultati ottenuti nella precedente amministrazione, non in quell'uscente naturalmente, dove era l'opposizione, abbiamo ottenuto di essere un comune virtuoso, l'unico nel mezzogiorno d'Italia, abbiamo ottenuto l'imposta di sbarco, quindi per gravare meno sui capresi, sui cittadini capresi, sui contribuenti capresi, abbiamo nei servizi sociali potenziato il servizio di trasporto anziani, siamo finalmente riusciti ad ottenere il piano sociale di zona Isola di Capri, ci siamo staccati così dalla penisola sorrentina, quindi grandissimo risultato, e poi sono sotto gli occhi di tutti gli eventi organizzati dal sottoscritto alla certosa di San Giacomo, grandi eventi con grandi nomi, voi lo sapete, siamo qui per risolvere i problemi e non per fare polemiche, le polemiche le lasciamo all'altra parte, è stato detto che non hanno aumentato le tasse, questo non ci interessa, la cosa importante è che noi ridurremo le tasse, questo era il nostro impegno, perché noi siamo qua per risolvere i vostri problemi e soprattutto per cercare di stabilire un contatto con i cittadini, quello che è mancato negli ultimi 5 anni. La mia storia vi dice che io sono un uomo del fare e non della teoria, quindi sono a vostra disposizione perché la mia disponibilità, competenza e concretezza è per voi cittadini caprisi. Grazie.